L'anno prossimo ci sarà la tanto attesa tappa del Giro d'Italia che attraverserà la Valle Seriana. Da ex corridore, che cosa ne pensi di questa tappa? Che caratteristiche ha e secondo te c'è qualche bergamasco favorito? Diciamo che da ex corridore mi sarebbe piaciuta correrela perché insomma, sta data va un po' alle mie caratteristiche. Poi passando vicino a casa mia, scalando la set che forse ho più volte scalato in vita mia come corridore, mi sarebbe piaciuta tantissima correrela. Che caratteristiche ha? Una caratteristica che è nell'ultima settimana del Giro d'Italia, quindi i colleghi sono già stanchi, una tappa che è inserita tra alcuni tapponi di montagna, quindi una tappa di trasferimento, però una tappa in cui magari i uomini di classifica staranno un po' a controllarsi. È adattissima alle fughe perché ha un tratto pianeggiante di un centinaio di chilometri, dove chi vorrà attaccare lo potrà fare. Come bergamaschi penso che si addica un po' a tutti, da Possoni che è fortissimo in salita, a Pinotti che è un attaccante nato e che tiene molto bene in salita, a Vanotti e a tutti gli altri bergamaschi che hanno la possibilità di correre in casa e di poter sfruttare questa occasione. Tu adesso sei anche un amministratore comunale, secondo te per le realtà locali, per gli enti locali, che cosa rappresenta questa tappa del Giro d'Italia che passa sotto casa? È un'opportunità da sfruttare oppure che cos'è? Io penso che sia una grandissima opportunità, non passa per Vertua, ma passa per Gazzaniga e Fiorano, quindi vicinissimo a noi. Un grande aumento di visibilità, Gazzaniga rappresenta l'ultimo paese prima dell'arrivo a San Pellegrino, perché per Gazzaniga non attraversa più grandi paesi e Gazzaniga è il trappino di lancio della fase finale della tappa, per cui c'è grande visibilità. Nell'operazione che stiamo prononando dai cinque comuni, quindi Cene, Gazzaniga, Fiorano, Vertua e Colzate, di lavorare insieme potrebbe essere la possibilità di metterci in mostra e far conoscere a tutta l'Italia, visto che è in diretta televisiva sulla RAI, di farci conoscere come distretto commercio, come distretto del turismo, come tantissime cose, quindi è da valutare, studiare e cercare di sfruttare nel migliore dei modi.